allora ciao ragazzi l'altra volta ho fatto un video ma forse non sono stato compreso bene ora vi faccio vedere un po meglio come funziona questo gps che io vengo e che per poterla avere basta telefonarmi o contattarmi su facebook su youtube che rosiferi original su facebook rosiferi original non so viaggio ferri basta contattarmi allora il funzionamento come il funzionamento io vi sto facendo vedere questa schermata per farvi vedere il funzionamento vero e di questo gps e non vi fate prendere in giro di tutti quelli persone che vi vogliono dare un gprs e ve lo vogliono fare dare per il gps perché non lo è questi piccolini con calamite che si appiccicano e che vi segnalano la strada non è come questo che io vi sto presentando quelli sono sono truffe sicure comunque poi decidete voi se dove lo dovete comprare oppure no io quello che vi presento è un gps a tutti gli effetti e il funzionamento è questo praticamente se dovete monitorare la vostra macchina motore bicicletta qualunque cosa sia qua c'è la cronologia da oggi ieri martedì dicio insomma è l'accio ieri se volete sapere la cronologia di oggi ad esempio alle 12 e 4 e andate a cliccare su play vedete che nel quadro vi spunta la strada che voi avete fatta e vi dice direttamente vi siete e il fine viaggio è stato fatto alle 21.03 alle ore 11.45 indirizzo di via è quello che sia lo potete leggere là e avete la partenza e l'arrivo poi se dovete vedere invece prima a che ora è stato partito o arrivato e fare play questa è un'altra strada e ti dice che fine viaggio alle 21.03 alle 11.57 si è fermato in via gustavo roccella cioè praticamente vi dà tutti i tipi di spostamento che voi fate o ancora prima in via gustavo roccella ad esempio se gli fate play lui ti dice la strada che avete fatto oggi lì dove è che c'è stata la partenza e ora c'è l'arrivo dov'è che ti dà via numero e tutto se cliccate su questa freccettina e comunque poi tutto questo lo avete su smartphone o al computer dipende avete tutta la cronologia c'è i chilometri che avete fatto la durata che avete camminato la velocità che avete fatto velocità media e 14 chilometri orari quindi questa è tutta la cronologia e questa di qua in poche parole vi dice tutto vi faccio l'esempio mettiamo caso che oggi cosa che non sia vi fregano la bicicletta che avete messo qua o la moto o la macchina voi con la cronologia potete andare a vedere dove si è fermata la macchina e andarla a recuperare senza bisogno di mettere le forze dell'ordine in allarme o cose cioè la potete andare a trovare voi poi se le cose si complicano fate voi è una cosa una scelta vostra però già è un ottimo un ottimo gps per poter recuperare ciò che vi è stato torto indebitamente poi che abbiamo altre funzioni le funzioni se andiamo a cliccare su unità allora abbiamo questo di qua che significa che se io ci clicco e diventa così vedete che diventa tipo fermo e si sposta la macchina o il motore quello che sia in diretta potete vedere direttamente che strada sta facendo e potete andarla a raggiungere prima ancora che si può tornare la macchina o il motore invece togliendolo mettiamo lo scudo noi andiamo a dirgli alla macchina che oltre questo perimetro perimetro non deve uscire se esce oltre questo perimetro che cosa succede? che lui ti manda un messaggio ti mette su smartphone e ti dice la macchina sta cominciando a camminare e sai che la macchina si alzano fregando oppure no comunque ragazzi questo è quasi no tutto ci sono altre funzioni questi sono i messaggi che vi arrivano dalla macchina quando cammina quando si ferma quando insomma tutto poi abbiamo l'allarme poi abbiamo il gps poi abbiamo i messaggi abbiamo l'indicazione stradale insomma abbiamo tutto questo è un gps che io vi consiglio di acquistarlo da me perché il prezzo che vi faccio io non ve lo fa nessuno il prezzo che vi faccio io è regalato poi quello se voi non sapete come usarlo voi mi dovete dare solo una sim che io vi configuro questo gps non so se lo vedete gli metto la sim all'interno gli mi date il vostro indirizzo email e tutto questo di qua tutto quello che vedete sul sovraimpressione lo vedete direttamente sul smartphone basta avere una sim mi date una sim io ve lo configuro e se è il caso ve lo monto pure io tutto questo di qua con l'adesivo che verrà nascosto basta collegare solo il negativo e il positivo cioè praticamente chi è a parte fuori di Palermo o della Sicilia lo volete pure spedito basta collegare questo non so se lo vedete che è rosso nella batteria più e quello nero che è questo che è il negativo non so se si vede io ve lo spedisco già preconfigurato dovete mettere solo questi file avete tutto sullo smartphone vi raccomando chiamatemi se siete interessate se siete interessate a quell'oggettino che appiccica sulla macchina che sono tutte grande cavolate compratevi quello se volete una cosa bella millimetrica che ti da 500 o 600 metri di più o meno proprio millimetrica se può sbagliare si e no di mezzo metro io sono responsabile di quello che dico e se non siete soddisfatti sarete rimbossati la vendita di questo oggetto di qua è 50 euro con tutta la preconfigurazione e assistenza telefonica per se in tutti i casi quello che sia vi salutavo seguite il video mettete mi piace condividete se vi piace se no non condividete fate quello che cavolo volete ma che sarà vi fate venire questa cosa ciao